Ragazzi E' ritornato Bendy Ciao a tutti ragazzi come sapete sono Cristiano 7 e ben ritornati Appunto in Bendy And the Ink Machine Mi sono accorto che Eeeh Nel un Il secondo capitolo L'hanno fatto uscire Un sacco di tempo fa Però il problema è che non posso portare Più video di Bendy and the Ink Machine Finchè non esce il terzo capitolo Perché Se ho capito bene I creatori del gioco stanno ancora in sviluppo Del terzo capitolo E niente facciamo il secondo Anche ovviamente Il caricamento In cui fa vedere una tastiera E un controller Qui ovviamente è Bendy Aspettiamo che si carica Intanto Ah Ragazzi Ricordatevi Di Ricordate di arrivare A 40 iscritti Perché Ve l'ho detto Già nello scorso episodio Di Minecraft In multiplayer E Ma è partito il gioco Ah ecco Il secondo capitolo Vedere Una stella satanica Una stella satanica Ok Ci siamo svegliati Prendiamo ovviamente L'ascia Come si prende Ah ecco Andiamo No ho sbagliato Ah lì dobbiamo andare Vai Andiamo E' caduto Un pezzo di legno E io già mi sono spaventato C'è Allora Che cos'è questo Barattoli Ah li posso prendere Che cos'è Zuppa Ah si è zuppa Ma perché ci sono Stelle sataniche A caso Totalmente a caso Mo Bendy Se non fai il bravo Ti uccido eh Oh E' morto Va bene Ah è morto Ah è proprio morto E vai Cosa Bendy è mortale Oh My God Ok Andiamo qui Tanto non succederà nulla Di male Chi è Cos'era No ragazzi Ditemi cos'era Quella cosa E tra l'altro E' scomparsa Nulla Uccidiamo qui Bendy Tanto si rigenera Ecco appunto Che è questo Un pulsante Vabbè Noi andiamo Bello qui Ah Dobbiamo attivare Tre generatori Un Mi Quindi mi sa Che uno E' questo Allora Ah si Allora ragazzi Stoppo quel video Finchè Non accenderò Tutti i generatori Allora ragazzi Finalmente Dopo tre millenni Ce l'ho fatta Trovare tutti i tasti Perché uno Era ben nascosto E io Dato che Detto che Non controllo Mai I posti Non l'ho Non l'ho Notato Quindi mo Probabilmente Ah Ecco Apriti Sesamo Si è aperto Ovviamente Qui è tutto Sbarrato Si è acceso Una luce Da sola Cosa Poteva Succedere Di male Allora Peti Legno Toglietevi Da Ecco Allora Dove Andrei Per primo Qui Ah E' Bloccato Allora Vediamo Qui Cosa c'è Benny Ovviamente Se non c'è Benny Cos'è Quello Ma Ah Vi ho Ucciso Sto Cosa Allora Andiamo Qui Sotto Non so Perché Ma Mi sto Spaventando Da morte Per nulla E Mo Che si deve Faremo Aspettate Un attimo Fatemi Pensare Aspetta Quanto Sto A Sei Minuti Ok Fammi andare Qui Che Ah Credo Che Si De Ah Qui Ragazzi E' Scomparso Bendy What C'è ragazzi Non sta Capire Più Nulla Perché Molly Ci sono Due Bendy Quando Un Bendy Stava Qui E poi C'è Quella Faccia C'è Un piano Allora Oh Che cosa è Allora Non so Cosa Abbiamo appena Detto Che c'è Qui dentro E' Una Cosa Non c'è Nulla Allora Qui E' Chiuso Mi sa Che Forse Devo andare A attivare Il Coso Questo Ok Dopo che L'ho Attivato Cosa Devo fare Intanto Ragazzi Vi dico Che Bendy And Tank Machine Un gioco In cui Si deve Ragionare Ma Molto Quindi Vado Un attimo A informarmi Perché Adesso Non sto A capire Più Nulla Su Cosa Devo Allora Ragazzi Credo Di aver Capito Che Praticamente Mi sono andato Un po' Informare Qui Nei paraggi Ci dovrebbe Essere una porta Che forse Mi sarà Che sarebbe Questa Ecco Dove c'è Questo Attiviamo E cosa si è acceso Si è acceso Questo E che dovrebbe Succedere Ma Cos'è Che Mangiamorte Che Via 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 Da me Luridi Luridi Schifosi Che Cacchio Ma Come siete Fatti Che Siete Fatti Di Moccolo Nero Eh No Però Continuano A spawnare Muori Ma Perché Non muore Io Io Lo Sta Tagliando Via Adesso è morto Prima no Ma adesso si Ancora Vai Da satana Vai da satana Capito Oppure ti devo Uccidere la madre Morite Qui Sembra che c'è una banana Inciampano Da una capocciata Per terra E muoiono Che bello Ancora Ci vediamo Finché Questi Oh ma Questo Si avvicina Ancora Cioè Non puoi Neanche Stoppare Il gioco Ci vediamo Finché Questi Cosi Non si Sono Fermati Allora Allora Ragazzi Credo Che si Sono Fermati Quei Cosi A Spawnare No C'è ancora Uno scemo Eccolo Qui Muori 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 E muori Ok Credo Che si Sono Fermati Ah Questa Si è Aperto Wow 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 Allora Qui C'è un Mucchio Di Inchiostro Ok Ok Vediamo cosa c'è qui Si apre No Ok Allora Abbiamo sbloccato Sta parte In cui non sappiamo Cosa fare E mo Cosa dovrebbe Succedere Vediamo qui Ah Mi sa che è successo Pure questo Soprattutto Quello Che prima Era spento Ah Ok Mi sa che ho capito Mo Dobbiamo forse Andare sopra E fare Qualcosa Almeno Credo Tre Bendy Da Due A Tre Ma Vi rendete Conto Qui Non c'è Nulla Andiamo a vedere Qui Ah però Adesso Questo Si è acceso E lì Ovviamente Ci sono Tutti Bendy Allora Sapete una cosa Ragazzi Concludo qui L'episodio Perché non ci sto a capire Più niente Veramente È Casinato Sto gioco Allora Concludo qui L'episodio Spero che vi sia piaciuto Vi ricordo sempre Di lasciare un like Iscrivervi al canale E arrivare Con anti iscritti E niente Noi ci vediamo al prossimo episodio Ciao